I dati scientifici che usciranno da queste verifiche e c'è anche l'Università della Sapienza di Roma saranno utilizzati come modello applicativo di standard di sicurezza su tutta la rete autostradale cioè ad oggi erano i concessionari che legittimamente sulla base di convenzioni fissavano degli standard di sicurezza sulla base di prove di carico che noi come Stato controllavamo ora anche lo Stato attraverso il mio ministero fa delle prove di carico, esegue dei rilievi scientifici fissa dei parametri che dirà i concessionari di rispettare in perfetta collaborazione Questo è quanto dichiarato dal ministro dell'Infrastruttura e dei Trasporti Danilo Toninelli alla sua arrivo in Abruzzo per seguire le prove di carico in corso sullo viadotto e con le Castino dell'autostrada 24 in provincia di Teramo Si tratta di una delle prove chieste dalla MIT per verificare la sicurezza dell'infrastruttura viaria in particolare dei viadotti La concessionaria ci hanno spiegato prima, queste verifiche le ha già svolte nei mesi scorsi? Questa concessionaria le verifiche le ha già svolte ma è evidente che noi non possiamo limitarci a controllare le carte Io purtroppo ho trovato un ministero che controllava le carte e solo le carte Oggi, anzi da ottobre che ho mandato fuori i nostri ingegneri a fare verifiche con sopralluogo visive e tecniche che hanno comportato una serie di interlocuzioni scritte con i concessionari per cui devono fare determinate opere di messa in sicurezza o di verifiche che lo Stato è tornato a controllare, che lo Stato è tornato a uscire dagli uffici di Roma e andare su territori vicini cittadini alle comunità a dire loro se le cose vanno bene oppure no e penso che sia una cosa positiva per tutti, per i concessionari compresi Un'ultima battuta, i sindaci per i pedaggi l'hanno invitata a un vertice oggi pomeriggio a Carsoli Andrà o comunque si sentirà con loro? Beh innanzitutto io penso che i sindaci siano ben soddisfatti che il primo di gennaio non sia scattato neanche l'aumento Istat come doveva scattare, non c'è stato nessun aumento né dal livello dell'inflazione né del 19% concordato Quello che vi devo dire è che stiamo costantemente andando avanti nell'interlocuzione Sul piano economico finanziario è scaduto da 5 anni, cioè io ho ereditato una concessione che non veniva aggiornata da 5 anni La stiamo aggiornando, siamo andati due volte a Bruxelles perché il concessionario portava un parametro economico che non era evidentemente sostenibile, è per questo che per 5 anni non si è aggiornato alcunché E noi portiamo altri parametri economici che penso che siano intermedi Ovviamente stiamo andando avanti, se non dovessero accettare, io non starò mica 5 anni a aspettare un accordo Se non dovessero accettare un accordo che fa dei passi avanti, troveremo tutte le strade necessarie da percorrere